Ragazzi, Daily Mello per forza lo reputa un capitolo perfetto, Daily Mello legge solo One Piece, se ammettesse che l'ultimo capitolo è una merda, non avrebbe più niente da leggere, non camperebbe più, è normale che lo reputi perfetto, deve reputarlo perfetto Ma poi guardate quanto è paraculo, cioè fa tutti i commentatori One Piece, tanto lo sai che ce l'avevi con me, lo sappiamo tutti, la prossima volta mi tanchi e basta Ma scusa, ma non posso conoscere qualcun altro, devo conoscere Ma chi conosci? Ma se c'è il baffanculo, Daily Mello, vai a fare in culo, vai a fare in culo Ma cosa vi è piaciuto, ma non è vero Ma attento si è rinforno Daria Moggia Un abbraccio, come una mano, subito si è proposto Quanto pare sfottere sommo buta unisce i cuori del mondo, che vi devo dire? Ed eccolo qua, wey Darione, fratello Ciao, ciao Come stai? Ho visto che la Shanta sta notando che oggi sono dappertutto e che ero da Archie Vero, sei ovunque Sono ad ascoltarvi tutti sul capitolo nuovo di One Piece Mi rilassa, mi rilassa sentire il pari di One Piece bene e male, tutte e due Addirittura Ne hai parlato come, posso dire, ne hai parlato come si deve, secondo me Ah ok Perché è una roba molto particolare questo capitolo Lo è Ora, mi manca sommo Però è strano, è un capitolo molto strano È un capitolo che veramente va a cambiare tutto Tutti gli equilibri di One Piece Equilibri a cui abbiamo creduto per anni Cioè, secondo me si va a rivalutare anche un po' la figura di Gold Roger Si va a rivalutare la figura di un po' tutti i personali Totalmente inutile Gold Roger a questo punto Cioè, a che serve? Cioè, è vero che non serviva più a niente ormai E si capisce esplicitamente Purtroppo Non era lui Joy Boy Non sarebbe andato avanti lui Ha lasciato tutto alla generazione successiva Però, cioè, così è veramente troppo Dover creare questa predestinazione con Luffy in questo modo È tremendo per me No, gli ha voluto dare un ruolo ancora più importante Però, cioè Sarebbe stato molto interessante Riflettendoci, magari basare tutto più sulla volontà Cioè, se fosse stato una roba filosofica Cioè, solamente astratta, no? Cioè, io porterò avanti la volontà di Joy Boy La volontà che magari si nasconde nel nome Sarebbe stato interessante Ma così gli ha voluto dare proprio qualcosa di concreto Cioè, un potere vero Di una divinità Il potere più ridicolo del mondo, no? E secondo me bastava un risveglio L'omino di gomma Che riesce, con un potere stupido A rivoltare la Terra Secondo me A rivoltare il governo Sarebbe stato veramente meglio A mio avviso Perché alla fine sembrava che tutto stesse puntando lì Un'eredità C'era una persona che aveva questa similitudine C'era anche tutta la questione Dei tamburi della liberazione, no? Che dice Zunisha Ma allora non sono tamburi metaforici Metaforici Sono proprio la sigla Tan, 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 tan One Piece è diventato metanarrativo in una maniera un po' strana Cioè è diventato un cartone animato Il cartone di One Piece nel manga Un po' strana sta cosa Paco dice una cosa che Tutti si aspettano a rivoluzione Ma quando c'è Sia sempre da ridire Guarda Paco Scusa se Tu ti dò torto Ma è da tutta Wano Che subiamo rivoluzioni Una dopo l'altra Secondo me non c'era bisogno Di un'ulteriore rivoluzione Cioè io sono stato contento Di rivedere Joy Boy in Rufy Di rivedere una volontà Che si tramanda Attraverso la libertà Attraverso la liberazione degli schiavi Attraverso il sorriso Anche è un po' ridicolo Ma è un po' adolescenziale Ma stiamo comunque parlando Di un manga per adolescenti Quindi va bene Sì anzi Anzi anche meno Per bambini proprio Bambini e adolescenti Sì certo Perché è giusto Che crescano con qualcosa E con messaggi positivi Perché no Sono felice Però Questa rivoluzione Secondo me Va un po' a minare Cioè secondo me Si sta scavando la fossa da solo Oda Perché dovrà giustificare Shanks che ha trovato il frutto Perché dovrà giustificare Il ruolo di Shanks In questo Dovrà giustificare Tutta la CP9 Tutti quelli che hanno Un frutto Zou Zou Come hanno fatto Perché C'è una volontà Per ognuno Degli Zou Zou No No ma secondo me Poi dirà solo Li Zou 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 Insomma mitologici Basta Però Sengoku Dovrà giustificare Sengoku Dovrà giustificare Tutti Cioè Allora Adesso c'è anche Sommo Buda Lo facciamo entrare Dai Oh via Bella questa tripletta Cazzo Ha qualcosa da dire No ma lui è stato Super onesto prima In realtà Io non l'ho ancora sentito Insomma Quindi la prima volta Lo sentirò Dalla sua viva voce Ok No no è stato Veramente onesto Perché ha detto La retcon non mi piace Però chiaramente Fanboy di One Piece È chiaro che gli piace Tutto quello che fa Su Instagram È bello È sempre fondamentale Non deve mai mancare Per dare un po' di pepe Ai social Adesso facciamo i tre astri di saggezza Ragazzi Il tempo che entra Sommo Buda Gli ho mandato il link Ma Stavo aspettando che entri Dico Comunque che secondo me Non è una Brutta idea Infatti prima stavo parlando Proprio di questo Il potere in sé mi piace Figurati Citi cartoni anni 30 Figurati Sono so contento Dai È divertente È bello È anche bello da vedere Cioè avrei voluto vederlo Un po' di più Adesso si sono visti Più gli effetti Sullo spazio E anche sui nemici Perché Quella cosa Di Kaido Con gli occhi strabuzzati Vuol dire In qualche modo Il suo potere influenza Anche quelli che picchia Aspetta un attimo Aspetta un attimo Caverna A me non sembra Redcon Non intacca la storia Non c'è una propria Riscrittura degli eventi Della storia Ma sì Te praticamente Stai riscrivendo tutto Perché se gli astri di saggezza Dormono di fronte Al loro nemico naturale Di fronte al loro pericolo Più grande Stai Stai Facendo Tutto il resto Si muovono subitissimo E distruggono A nientano Stai facendo Il fanboy Stai facendo il fanboy Però è arrivato Sommo Buda Eccolo qua Ecco e qua Ecco e qua I due struzzi Per anni non si sono inculati One Piece Adesso vengono E fanno i ma... Perfetto Rimosso subito Ha detto la sua cosa Via fuori dai coglioni Ma per voi È stato un vantaggio Vi abbiamo fatto fare La bella vita Ma come siete Coglioni Che dovete fare I massimi aspetti Ti voglio vedere No no Angelo Angelo Aspetta Aspetta Allora Lo sapete Io prendo per il culo Lo sapete No 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 Però Angelo Guarda Io Ne ho Abbastanza La community Di One Piece Resti dov'è Non ci voglio entrare E mai Ci entrerò Posso essere sincero E sono sincero Perché l'ho detto Anche in live Io fino a un paio di mesi fa Ero una persona normale Aspetta Capiamo Vabbè capiamo Persona normale Nel senso che mi leggevo Il mio fumettino Del cazzo Ne parlavo Senza aver rotture Di coglioni E poi a un certo punto Ma veramente Non si è capito più niente La gente è letteralmente Impazzita E poi la cosa divertente È che vengono da me E cercano le risposte Da me Allora Perché One Piece One Piece sta ricreando un mito Secondo me sta funzionando bene Allora One Piece è sempre basato Sull'hype Allora Ah questo sì Anche questo capitolo Eh sì 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 E lo testimonia il fatto Che adesso la gente Ha una perversione Idrofoba Per gli early spoiler Quindi loro Prima moglie Stanno malissimo eh Stanno malissimo Ma questo si fa capire Che sono più interessate Alle informazioni Tipo libro di storia Che ci sono intorno Ai capitoli di One Piece Rispetto a leggere La storia di One Piece E quindi L'hype cresce Questa è una cosa Che c'è sempre stata Però ultimamente Ma ora è tantissimo Ora è solo questo Cioè se prima stava Costruendo i personaggi Adesso Devono campare di rendita Su quelle caratterizzazioni Però quando non gli fa Più comodo Le manda a fare in culo Quegli eventi del passato E dice vabbè Mori racconto le cose Perché è quello Che stava dicendo Sta riraccontando Io ho visto gente Ma sul serio eh Non sto scherzando Ho visto gente Che fino a qualche anno fa Demonizzava gli spoiler Non ne voleva sapere Il capitolo si legge Solamente La domenica Quando esce su Manga Plus Adesso il martedì Fanno Le reaction Agli spoiler Le reaction Agli spoiler È una cosa Proprio alluscinante Agli spoiler Ai testi Mica agli spoiler A quello che c'è scritto Lì ci dovete mettere Anche il fattore economico Che One Piece Tira E frutta I creator Molti denari Ma noi italiani Siamo comunque Uno stagno Se vedi quello Che succede all'estero C'è veramente gente Che si è fatta Le ville Eccetera Ma non è questo Quello che ci interessa A me fa piacere una cosa Da lettore Ecco da lettore Ovvero che effettivamente Anche poi persone come voi Che comunque Innegabilmente Negli anni Vi eravate un pochino Allontanati Per eccesso Addirittura di coglioni Che si può dire Non è l'esame Dopo Walking Island Vedendo Ma anche prima Vedendo anche l'hype Un pochino Vi siete riavvicinati Perché poi alla fine Ecco non è un dogma Il fumetto è bello Anche abbandonarlo Se tu oggi obiettivi Ti sei rottito Ma io avevo detto Guarda One è bella Leggila Allora va bene Via lo riprendo Beh sì E più che altro Sarà interessante vedere Perché se adesso Stiamo a questo punto A questo livello Non oso immaginare Quando finirà Wano E quando davvero Andremo verso il finale E sarà veramente Terrificante Sul capitolo in sé Io non lo so Cioè veramente Non riesco Ancora ad elaborarlo Però tu sei stato Molto chiaro comunque oggi Hai detto Ok sta cosa mi piace Sta cosa mi piace Però chiaramente Una retcon Ci sa Che sia una retcon È innegabile Quello sì Posso dire che mi piace La trasformazione in sé Quella mi ha fatto Letteralmente Torna a bambino Sembrava davvero Mi è sembrato davvero Di rivedere Goku Super Saiyan E la cosa divertente È anche biondo È anche biondo Ma la cosa proprio divertente Almeno per me È stato vedere Che di solito Ne batte il manga Il personaggio Che raggiunge Diciamo così L'illuminazione Diventa Il trusce di turno No Cattivissimo Diventa il troll Non un troll Il troll definitivo Un cartone animato Un po' di masche No vabbè De masche si ispirava però A È l'unitunz È un l'unitunz Ho fatto anche proprio l'esempio È l'unitunz È giusto È divertentissimo La cosa che voglio un attimo Aspettare Voglio andarmi a vedere Chiaramente poi I dialoghi dal giapponese Come si deve È quello che raccontano I cinque astri di saggezza Perché già per esempio Parlandone con Gabriele Gabriele mi ha detto No però guarda Effettivamente Che se ci andiamo A rivedere certe cose Alcune cose tornano A me per il momento Non piace Nel senso che C'è proprio Una vignetta Dove c'è uno spiegone Che è tirato Proprio shonen jump Jumpata totale Una pagina intera Per spiegare Quello che è successo Cioè È la shonen jumpata classica Però Il punto è che Odor Ormai Come diceva anche Dario Uno stronzo E quindi Campando Chiaramente Sul cliffhanger Dopo cliffhanger Dopo cliffhanger Ti dà le informazioni Col cucchiaino E quindi bisogna Un attimo capire Se ci sarà qualcosa in più Perché tutto questo dialogo Per esempio Di questi cinque stronzi È stato spezzettato In varie volte Noi stiamo vedendo Tutto un dialogo Diviso Questo è sempre il flashback Di quando Shanks è andato da loro Sostanzialmente No Vedi che sei una merda Che tu parli Senza conoscervi Ma come? Cioè allora Quando ci sono incontrati Dei che hanno parlato? Allora Non ci sa Vedi che sei una bestia Maledetta E io ti devo istruire Ma se lui lo taglia Ma no Allora Domenico Ma a me sembra Ogni volta che devo parlare Con te di One Piece Come parla con Cannarsi Che è una bestia One Piece Che se non capisce E Ma lo lega Cannazzi E basta ormai Basta Gontiero Leggiti sto cazzo E basta No Shanks era andato Durante la riunione Dei governanti mondiali Loro l'avevano fatto entrare Ci hanno parlato E poi loro sono andati Da questo Sorta di dio Egeliano Dei M-Sama Ok Chi cazzo vuoi uccidere Va bene Adesso I cinque astri di saggezza Stanno discutendo Dopo che Shanks È andato Sono passate un paio di settimane E stanno discutendo Di quello che sta Avvenendo O è già avvenuto Su Wanokuni Quindi dopo Il punto è che Non si sa a Shanks Di che cosa ha parlato Non si sa se ha parlato Di Rufi Non si sa se ha parlato Non si sa nulla Non si sa se ha parlato Di Barba Nera Il punto è che A noi ci mancano Una marea di informazioni Io vi dico una cosa Io vi dico una cosa Da quello che ho percepito Io da questo capitolo Che Shanks potrebbe anche Essere il cattivo Una cosa strana Ma Il fatto che Vero vampiro Vero vampiro Che lui dovrebbe essere Il Joy Boy E ride sempre A me sta roba Che mi sa tanto Di ultra istinto Che tipo Gli muore qualcuno davanti E si incazza E non ride E non riesce a usare Il Gear 5 Quando vi scommettete Che succede sta cosa Può darsi Non lo so Secondo me è un po' Una tirata Per i capelli Incredibile Quello che Allora Quello che mi fa incazzare Di questo capitolo Ma anche dei vari capitoli Bomba Di One Piece A Wano È che Sono poi belle le cose Cioè quando Rufy Si paga a botte con Kaido E spacca i cieli E finalmente capiamo Che è arrivata A livello di un imperatore Perché spacca il cielo Come Shanks Spaccò il cielo Contro Barba Bianca Io ero contento Ero quasi alle lacrime Perché tornavo Adolescente Cioè l'età In cui ho iniziato One Piece Però quando poi rifletto Su questa scelta E dico Cazzo ma lui In una settimana Di allenamento È riuscito Dopo che Kaido Lo incontra per la strada È una amazzata E lo sciotta Adesso invece Con il sandalino di paglia Riesce a bloccargli La stessa mazza Che l'ha sciottato Dico vabbè Ci passo sopra Anche qui è uguale Quando appare Rufy nel cielo E fa Mi sento benissimo Il battito Il mio cuore è strano Adesso posso combattere ancora È bella Lasciare Perché i Gorone Si cacano addosso Che è tornato Joy Boy A rompergli Però poi ci penso E guardo la spiegazione Dei cinque astri Di saggezza E faccio Madonna santa Ma gli potevate Mandare tutto l'esercito A questo Quei ragazzini di gomma No Impossibile C'è la prima volta Che combatte con Arlong No ma lì ci vuole Un segnalino rosso In testa Altro che taglia Di qualche milione E lo lascia andare via Ma te ne accorgi Lo sai Se è lui Quello che è di gomma Lo sai Che è lui Che ha preso il frutto Che tu Stai cercando da 800 anni No Più che altro Io perciò ho detto Mi do un attimo Prendere il mio tempo Perché poi le volte Noi ci facciamo Giustamente Giustamente Anche Ci facciamo prendere Dalla frenesia Del momento No per ora è così Sì sì Leggiamo il capitolo Anche chiaramente Con traduzioni Che sono Diciamo Molto all'acqua di rose Spesso Travisano tantissimo Spesso le volte Sono veramente Totalmente inventate E quindi Alle volte Ci facciamo Una sorta di film mentale Su delle cose Che in realtà Non esistono Proprio in One Piece Seriamente Quindi Diciamo che La prima impressione Almeno per me È stata davvero Di sorpresa Anche perché credo Che ha sorpreso tutti Il punto è che Voglio un attimo Sì Andarmi Davvero prima Rileggere il tutto Dal giapponese Cosa dicono effettivamente Cinque stronzi Ok E poi Un attimo Cercare anche Di capire Effettivamente Qual è il pregresso Perché Che sia una retcon Non c'è dubbio Che sia una cosa Che Oda Si è inventato Ultimamente Per giustificarsi Eventualmente Con la sconfitta Di Kaido Che lui diceva sempre Non so come far Sconfiggere Kaido Da rupi Capiamo Questi sono fatti Lo racconta lui Quindi dobbiamo Dire i fatti Dobbiamo un attimo Capire Secondo me Da lettori Se poi vogliono Davvero Discutere Per bene Di questa roba Se questa retcon Funziona All'interno Delle mini stronzate Che ci raccontano All'interno Di One Piece E quindi Andarci per esempio A vedere veramente Che cosa si raccontava Dei frutti del diavolo Dell'anima Dei frutti del diavolo La cosa Per esempio Dei frutti del diavolo Ti ricordi Usopp Che diceva Guardando Le armi Usopp diceva La cosa divertente Non hanno una volontà Non hanno una volontà Quindi ce l'hanno Perché Usopp Il problema di Oda È che Si scava sempre Come dico Come ho detto prima La fossa da sole Che lui ha il vizio Appena Toriyama Quando faceva le retconate Se ne sbatteva il cazzo Ragazzi Se la volete così Ve la do così Se no Andate a venire a fanculo O i suoi editor Per lui Il problema di Oda È che ha il vizio Di spiegare tutto E lui si è veramente Ingabbiato Perché c'è la gente Che cerca di difendere In qualsiasi maniera Eh sì Eh ma Dario Uccidendolo prima Però Il frutto si sarebbe Reincarnato In un altro frutto E loro avrebbero Perso il frutto Però lui ci spiega Perché il primo frutto Disponibile E ovviamente Si trasforma In un frutto del diavolo Almeno lo intuiamo Quando Smiley scoppia E poi vediamo Il frutto Che si trasforma In un frutto del diavolo Cioè lui comunque Spiega le cose E spiegandole Lui si è ingabbiato Perché le regole Ora iniziano A essere fitte E ad essere Molto ingabbianti Eh Quindi poi vediamo Ma figurati che L'ha detto anche lui In realtà Ultimamente proprio E ha detto Io devo sempre tener conto Che nonostante tutto One Piece è un fumetto Per ragazzini E io so bene Che là fuori Ci sono una marea Si l'ho detto però So bene Che ci sono una marea Di persone Che capiscono Comprendono anche I vari sottotesti Che io metto Perché ci sono Ma io devo Tenere conto Di quelli che One Piece Non lo capiscono E quindi devo Spiegare tutto Tutti i passaggi E i decenni L'ho detto proprio Vabbè ma questo In generale Tutti i manga Fanno così Cioè tornano sempre Ad essere anche Ridondanti Perché devono spiegare Sempre tutto Per bene Da capo Se non si capisce Però Io comunque Cioè non stiamo Non stiamo criticando Questa cosa Perché tanto alla fine Cioè se la spiega Meglio Il problema È che torna indietro E cancella il passato No lui disse Anche in un SBS Che lui aveva Pensò se ti ricordi Insomma Che te le riodi Tutte queste stronzate Lui disse No ma non perché Sono stronzate Ma sono proprio Ma è vero Quello che dice Ma la volè E poi se ne dimentica Insomma Lui disse Gli fece Già elettore Intelligente All'epoca Mi pare Si parlava ancora Di Anislobi Gli chiese Oda Senti Oda Ma Ora che Siamo in un mondo Di mostri Un mondo dove la gente Mangia i roja Sono fatti di luce Di ghiaccio Ma Rufi Come può sopravvivere Fatto di gomma E Oda rispose Eh Ci ho pensato Tante volte A cambiargli il frutto Perché Il frutto di gomma È un po' Deboluccio Nel nuovo mondo Però Ci ho pensato Tanto tempo E poi ho deciso No Rufi Deve rimanere di gomma Vabbè È rimasto di gomma Effettivamente Però è riuscito A cambiarlo Più che altro Sai cosa disse Proprio per bene Di se Deve avere comunque Quel tipo Di potere elastico Perché così Io sono in grado Di fargli fare Tutte le stupidaggini Che mi vengono in testa Ce l'ha fatta Ma quello in realtà Ce l'ha fatta Il problema di fondo Chiaramente La divinità La divinità No ma credo che Il problema poi di fondo Sia il fatto Che effettivamente Se pensiamo A quella che è magari La storia editoriale Della non arte Giapponese Comunque Ad oggi Non c'era mai stato Un prodotto seriale Così lungo E così coeso E quindi Gioco forza Per nostra sfortuna Devi per forza Incorrere In cose del genere Io con questo Non voglio giustificare Lo comprendo Ma non giustifico Però ancora prima Ecco di nuovo Di parlarne bene o male Vorrei un attimo Capire meglio Diciamo che Tenendo conto Di quello che ho letto Io oggi Quella spiegazione Di quella vignetta Oddio C'hanno la loro volontà Quindi il frutto Fondamentalmente Capitato nelle mani Di Rufy Perché era la volontà Del frutto Fondamentalmente Non mi piace Ma non perché Non mi piace In One Piece O non mi piace In questa roba Perché non mi è mai piaciuto Anche in tutte le altre Storie Che ho letto Non mi piaceva in Naruto Non mi piaceva in Bleach Non mi piaceva in Dragon Ball Non mi piaceva In tutti i fumetti Non mi piaceva in degli spettri Pensavi forse Che One Piece Fosse più speciale Degli altri No Però Anche a me Anche a me Questa cosa Non mi è piaciuta Il fatto di essere Un predestinato Il prescelto Mi piaceva che fosse Un coglione Di un villager Che spacca tutto Purtroppo E dico purtroppo Perché di nuovo È una cosa Che a me Non mi è mai piaciuta Ma neanche Quando ero ragazzo Pensa che in Ciro No alla fine Si scopre che È una tassa Da pagare Con questo Non giustifico Perché tenendo conto Proprio di quello Che si è venuto a creare Con One Piece Magari si poteva trovare Un escamotage Un pochino diverso Però il punto Rimane quello Voglio un attimo Vedere Prima di tutto Se ci sarà Qualche ulteriore spiegazione Perché è possibile Ma non settimana prossima Ma non settimana prossima E anche perché ci manca Una marea di cose Che lui deve raccontare Cioè noi stiamo È come se stessimo parlando Come sempre del nulla Cioè lui Che fa Lui ti spiega Questa cosa di Nika È stata introdotta Ora A Wano Cioè la prima volta Lo nomina Usu Qualche capitolo Fa Ragazzi Delly Mello Per forza Lo reputa Un capitolo perfetto Delly Mello Legge solo One Piece Se ammettesse Che l'ultimo capitolo È una merda Non avrebbe più niente Da leggere Non camperebbe più È normale Che lo reputi perfetto Deve reputarlo perfetto Ma gli ha fatto cagare Sicuro anche a lui Prego ragazzi Ma sai Io credo in realtà Questa è una cosa divertente Che hai detto Che L'onestà intellettuale esiste E abbonati Lezzo Abbonati Anche con One Piece Grazie E in realtà Le persone Se ne accorgono poi Se effettivamente Devi fare un contenuto per Oppure se stai dicendo Una cosa In cui ci credi davvero Capisco la battuta su Delly Che legge solo One Piece Legge solo quello Legge solo quello Però effettivamente Ecco no Guardando Io assolutamente Mi sto avvicinando Alla community internazionale Di creators Vedo delle cose Che sono veramente Non allucinanti Io ho letto delle teorie Insomma Mamma mia Capolavori Io ho visto certi video Ultimamente Ma davvero Ma il petrolio La resina La resina No ma Il petrolio È una roba allucinante Cioè c'è questo Petrolio perché no Allora ti racconto il petrolio C'è questo giapponese Che è la Ho scoperto Questo tipo È la radice del male Ovvero Questo tipo giapponese Dice la sua teoria Quella teoria puntualmente Finisce su Reddit E tutti la copiano Tutti Questo giapponese Questo giapponese diceva Che in pratica Il potere di Ruffi È il potere del petrolio Perché La gomma fondamentalmente È fatta di petrolio E quindi lui Riesce Ad accendersi Ad accendere il petrolio In sé Quindi a trasformare Il frutto In fuoco E quando I cinque astri Di saggezza Dicevano Che bisognava spegnere La luce del mondo È perché Ruffi Rappresenta La luce del petrolio E quindi lui Andava spegnere Bello però Ma infatti Un po' si è acceso Col Gear 5 Risveglio Un po' si è acceso Un po' si è acceso Non credo che sia Per il petrolio però No Penso proprio di no Sarà interessante Il futuro Ma io comunque Sono contento Che anche voi stronzi Siete tornati Nonostante tutta La parola di One Piece Ma noi non ce ne siamo Mai andati Noi aspettavamo Questo Per conto mio Anzi la gente Sta provando a Reactare alle mie cose Su Twitch Di notte Ma Io me ne tengo De vita a distanza Se è possibile Che siete Siete dei matti Che pregate in chiesa Io con la chiesa Non ci voglio avere niente No ma Ci sono i matti Che pregano in chiesa Io Ormai per me Solo venerdì Poi faccio il video Per farlo lunedì È finita Non vuoi più sapere niente Fino alla settimana dopo Perché È la morte Sul serio Prima davvero No anche perché O per aver mostro Delle critiche a One Piece Vengo visto come quello Che Il cattivo Ma che cattivo Poi in realtà Quando io avevo visto Il video tuo E fondamentalmente Avevamo detto esatto Ma credimi Le stesse identiche cose Tu hai fatto un video Dove parlavi Diciamo delle cose Che non ti piacevano Di buono Ah La prima La prima Di qualche settimana fa Sì 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 E io l'avevo visto Mi sembrava niente Di obiettivamente scandaloso Anzi Tranne la parte su Usop Per il resto Sono d'accordo Non mi ricordo Cosa avevo detto Che palle Usop Che rottura di coglioni Cod Usop Non si può parlare Di Dio Usop È diventato Veramente Una povera merdina Guarda È che è il mio personaggio Preferito Cioè figurati se non mi incazzo No vabbè Peggio di Chopper Comunque non è diventato Quindi a posto Dai Dario non c'è obiettivo Eh lo so Zio Carlo D'altra parte è così Ah ma Zio Carlo È sempre rompecoglione Anche da me Vabbè 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 Qua mi danno del Papa Del alto sacerdote Vabbè Il Papa nero Il Papa nero Il Papa nero è arrivato Vestito di nero Sì sì ci sta Vabbè Che voi volete fare Ma è palese Che non lo leggono Con un piste È livello Incazzato come un mostro Perché gli si trova Come le iene Ma che combinato È come È come Tezuka per Kirio Si compra Ma non si legge Si legge ovviamente Ovviamente No no o meglio Si deve leggere Quello che gli fa comodo Ultimamente Come te Domenico Lo sto leggendo Mi diverte Ma mi piacciono Anche le ultime Per esempio Oggi ho stato super onesto Oggi No ma sempre Bisogna essere super onesti Sempre sempre Ma il frutto Il potere del frutto Cioè il potere del frutto Il potere del risveglio Mi piace parecchio Ripeto Quando ho visto quelle robe L'occhi fuori dalle orbite Le robe alla cap Ed ho detto Vai Questa cosa è bella La spiegazione con cui lo introduce Delli Mi dispiace Poi vediamo Magari la giusta La fa un po' meno È come ci si arriva A questa roba qua Che è brutta Mica quello che sta raccontando Perché secondo me Pure in linea Almeno ha mantenuto Il divertimento del personaggio Che non l'ha sputtanato Non l'ha fatto diventare Il truce Non l'ha fatto diventare Super Saiyan Con gli occhi incazzati E mo spacca tutto Sta sempre a ridere Divertente E veicola felicità D'altronde Deve essere quello che libera tutti Deve essere comunque gioioso Luffy So Ruxas Spara una cazzata Ruffy Versione Bugs Bunny Fa cagare anche a me Voglio leggere One Piece Non to a me Jerry Dottor Slumper Ma che vuoi dire Ener quando scopre Che Ruffy è di gomma Ma che faccia fa Perona Quando lo scopre La cosa divertente È che Ruffy È sempre stato deficiente Cioè l'ha vista per deficiente A questo punto E il fatto che adesso Davvero lui si è diventato Il troll supremo È forse Ma lo dico Sul serio In maniera Un po' cristallina Forse è davvero Una delle cose più belle Di tutto One Piece Quella splash page Dove c'è lui Che ride A squarciagola Davanti al nemico È proprio bella Cioè la guardi Ridi pure tu Quindi da quel punto di vista Non voglio dire Che diventa anche Meta narrazione Perché sul serio Se quello è il frutto Della risata Ti strappa una risata Anche a te lettore Che vedi la cosa Slapstick Cartone animato Eccetera Però bisogna un attimo Sul serio Fermarci E dire Ok Dove l'autore Ci vuole portare A questo punto Perché bisogna Sul serio Cominciare anche Un attimo A andare Al nocciolo Della questione Dei frutti Del diavolo Perché dopo 1044 capitoli Tutto sopra Non sappiamo ancora nulla E di tutto Il mistero Che ruota Intorno A questa Stranzata Capiremo Sarà divertente Ci aspettano 5 anni Anche meno Di Di ogni settimana Io vivo nel terrore Ormai Sono blindato Non sto scherzando Anche perché Spara una bomba Una dopo l'altra Ogni settimana Eh sì 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 Stamattina Io non ho detto Niente Però subito Sei partito In quarta Io non ho detto Niente Ho detto Subito Bestia di stata Le 9 stamattina E poi Mi hai dato Pure ragione Mi hai dato Pure ragione Ma non ho detto Niente Non ho parlato Di eventi Ho detto Bah vi dovete Inginocchiare E dire scusa Perché è una ret Ma la prossima Invece Hai la cavernata Ma i loro Spettatori Non a me Hai loro spettatori Non a me Guardate Quanto è paraculo Cioè fa tutti Eh i commentatori Tanto lo sai Che ce l'avevi con me Lo sappiamo tutti La prossima volta Mi tanchi E basta Ma scusa Ma non posso conoscere Qualcun altro Devo conoscere Ma chi conosci Scusa Ma è napoletano Sai Il fattore Partito Non facciamo I paraculi Tanto Io non faccio Il paraculo Ti tancho E basta No ce l'aveva Con Dodò De Backe Reft Ma no Povero 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 Gabri Povero Dodò Mannaggia La morte Vabbè Capiremo Settimana prossima Se siamo ancora vivi No settimana prossima Voglio vedere la puntata Dove loro si pigliano ammazzate Basta Cioè non voglio vedere altro In questo momento Ora me lo devi far vedere bene Quello È quello L'ha già detta Anzi fanno la splash page A colori apposta Per festeggiare Che finalmente è finito Sto scontro di cazzotti Quello Briao Quello che si risveglia Un casino Ci ha messo due anni No ci ha messo Un anno per dargli due cazzotti Letteralmente Li ho contati Tra i vari show and jump Che c'erriò pure Ci ha messo un anno Di pubblicazione Per dare due cazzotti A Kaido E poi non è riuscito A fare niente È morto È morto e risorto Quasi a Pasqua Se ci pensi Ma sì Poi vabbè Sicuramente Si collegherà Come divano in chat Agli smiley No Cioè i frutti Del diavolo Artificiali Che guarda caso Sono animaleschi Secondo me si collegano A quello Anche Stavano cercando Di replicare Quella roba Secondo te Non lo so Non ho idea Nel manga viene solo detto Che Kaido Poi verrà Sciurma Più forte Di tutti i tempi E per lui Più forti Erano i frutti Con gli animali Che poi sono pure fallati Quindi Sono uno più pazzo Dell'altro Quello Da dentro di lui L'ha scritta Sconfitto E' una fake news Ma non è un aggiornamento Sulla guerra In Ucraina Cioè è fake news Ma come Ma scusa Cioè Dell in chat Dice Non è mai morto Delli Ma te ogni giorno Un giorno dici una cosa Un giorno dici l'altra Doveni ma pure tu Porca puttana Ma tu ancora lo stai ad ascoltare Ma no Ma perché Delli ormai Si è ringaluzzito Dal fatto che Oda Non ha risposto Sulla cosa del vice capitano E vabbè Quindi lui ormai Per lui Anche perché Crollerebbero vendite Da miliardi di viene Esattamente Crede che sia una cosa Di sceneggiatura No è una cosa di marketing Perché non puoi assolutamente dire Chi è il vice capitano Per far vendere In qual modo Tutte le figure Però vabbè Questo è un dettaglio Magari che Delli Leggendo solo One Piece Non conosce E Perché lo legge solo Lui non compartecipa Economicamente Per questo Già tra l'altro Non finanzia Oda Compra una serie blu Ma l'ha comprata Usata a 20 euro Da una povera vecchia Che è morto il nipote Sicuro E la vende Per pagarsi Insomma l'affitto Però Questa è una storia Che non raccontiamo qua E Vabbè Comunque Vabbè Bentornati Oda è morto Lo stanno mandando avanti Gli assistenti Ok No no Perché lui dice Che l'autore è morto L'autore non conta più niente Allora O conta il marketing O conta l'autore Dell devi far pace C'è un bot C'è un bot Che pesca E assembla Una sceneggiatura E ogni tanto piange E ogni tanto Le notizie dicono Che il bot piange Io mi sono molto commosso Per questo capitolo Cosa è così Io comunque ripeto Sono contento di quello Contento da una parte Scontento da un'altra Settimana prossima Mi aspetto di vedere Belle mazzate E poi in futuro Vedere come ancora Ritconnerà tutto Per farlo tornare Cosa mi fa ridere Che nessuno ha parlato E non gliene fregato Un cazzo Del pezzo di Orochi Cioè è schippato totalmente Sì Che poi Quella è la cosa Cioè obiettivamente È la trama Il capitolo Quella è la trama È la parte talmente meravigliosa Perché teoricamente È ciò che sottolinea L'importanza del capitolo Perché c'è lei Che sta parlando Dell'importanza della famiglia E a questo punto Anche di come si affrontano Le difficoltà E c'è una tavola Dove ci sono solo sorrisi C'è Oden che sorride Lei bambina che sorride Eccetera Si è totalmente Scammato da tutto E da tutti Lei in lacrime È bellissima Però Lei in lacrime È meravigliosa Oggi c'era C'era da parlare Di altra roba Perché lei funziona benissimo Lì è la trama E funziona tutto bene Infatti secondo me Wano è proprio Veramente Veramente bella Devo dirti che io Mi ci sono riavvicinato Proprio con Wano Perché stava mettendo In mezzo Tutte queste altre cosine In realtà Non è che ci sono entrato Perché mi interessava Wano Wano poi ha cominciato A interessarmi dopo Però tutte queste cosine Di storie Forse di teorie Paleoastronautiche Comunque mi piacevano E quindi ci sono ritornato dentro Capiremo Forse Forse Molto forse Molto forse Sarà divertente Vabbò Bentornati nel club Sono venuto per darvi Di nuovo il bentornato Noi Tre mesi Che l'ho ripreso E vabbè Meglio tardi che mai Se volete che vi dica Vabbè Allora Ciao Buon 1045 Ciao Grazie Ciao 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 Io quasi quasi dai Delly, forza, forza, vieni qua facci sentire, facci sentire la verità Oda è morto è il vicecapitano, fra l'altro chi si vede della ciurma si vede San Giacomo eccolo qua, ciao Delly ecco Delly, ciao sono buoni gli stipendi che da Putin per dire le fake news su One Piece Putin, grande lettore di One Piece peraltro, eh il più grande fano, so che anche Zoriano, grande Zoriano ma matematicamente, matematicamente ma nell'ultimo capitolo si faceva proprio riferimento alla guerra in Russia, non so se l'avete visto al penultimo sì sì sì, vabbè palesemente, palesemente c'è Momonosuke che dice arrendiamoci, almeno rimaniamo vivi e Amato gli fa, che vivere è se siamo schiavi proprio è quello detto questo sono venuto qui smentire le fake news tipo, facci sentire tu di cosa sei schiavo invece dei vizi, di alcuni vizi dei vizi, uno di tanti è sicuramente dire cazzare su One Piece quale, cosa devi dire, cosa devi dire facci sapere, facci sapere siamo qui, pendiamo dalle tue labbra tre cose in tre minuti non c'è nessuna retcon ma zero, zero totale seconda Rufy non è morto lo sanno tutti e quando è umore si cazzano il frutto esce ed è tutto perfettamente logico e prevedibile come io sapevo ormai da due settimane non è che sarebbe avvenuto questo avvenimento ah quindi non venti anni fa da due settimane lo sai non da venti anni fa cosa vi ha stupito cos'è che non va di questo capitolo spiegatemi cioè fatemi cercare di capire perché è perfetto ah ti dobbiamo ti dobbiamo imbeccare no aspetta lui vuole sapere le cose perché non l'ha letto non lo sai quindi noi gli dobbiamo gli dobbiamo dire il capitolo così poi lui fa il video io so tutto so tutto già però dite retcon spiegatemi da retcon è che lui palesemente non ha previsto fin dall'inizio il frutto homo homo oda oda chi è dove è nel manga è un personaggio fine del dialogo no aspettate fermi tutto è l'autore che lo scrive personaggi neanche si muovono la persona che lo scrive da vent'anni eh sbagliate proprio questo approccio cioè il fatto di non conoscere con Piss mi fa sbagliare questo approccio l'autore non c'è nel manga l'autore non esiste e chi c'è la morte si chi c'è i personaggi la storia la storia se tu la legis ma non è che si scrivono da soli qualcuno dovrà farlo non mi importa io non leggo l'SBS non leggo le interviste di Oda non me ne importa ma non stiamo parlando dell'SBS sono fatti che succedono dentro il manga il manga è perfetto cioè non c'è una cosa che non torna Rufi appena prende il frutto dice ho mangiato questo frutto mi sento già più felice si ripristina i denti bevendo il latte tutti dicono che corpo strano che hai Kaido che dice ma la gomma non può fare questo ci sono tantissimi commenti l'ha detto 20 capitoli fa però va bene Rufi che si rialza sempre in ogni combattimento anche quando sembrava morto ma quella è la volontà del personaggio io ho sempre detto che il frutto evidentemente gli dava qualche potere di poter continuare a combattere e oggi finalmente scopro ecco e faccio oh cavolo no allora Delly stai proprio sbagliando te l'approccio Oda ha un metodo di scrittura ben preciso che ha sempre quello ha sempre manifestato fin dal capitolo 1 lui ha iniziato a mettere degli int completamente randomici nella storia e poi lui è molto bravo a riallacciare i fili tramite quegli int che ha messo allora lui che ha dichiarato che in 20 numeri voleva chiudere One Piece secondo te aveva previsto il Nika Nika scusami l'homo-homo mitologico modello Nika dai ma di cosa stai parlando di cui se ne parla solo in questa saga cioè come è possibile che prima non si sapesse nulla di questo dio gommoso che porta la felicità alla gioia prima le tecniche di One poi a bene facciamo l'ambizione del compisatore stai dicendo una bugia il dio del sole il dio del sole compare già nella saga degli uomini pesce Fisher Tiger i pirati del sole c'era un liberatore di schiavi no non si sapevi che sia un amico ma lì può darsi che l'abbia concepito ma perché nell'uomini pesce siamo già nel time skip ci credo ma dal numero uno ti hai citato il numero uno lui che si sente bene doveva aver mangiato il frutto con gomm ma lì figurati se tu riguardi allora io sostengo da tempo ormai ma da oltre un anno è cattivo è tornato su Mubuda l'hai fatto tornare un bruttire Delly ah ok ma scusami ma noi abbiamo fatto una serata che va in Giappone tu c'hai la super cam HD ultra motherfucker e per la live che va in Giappone hai fatto la live col cellulare che si vedeva tutto in grifoso e mi fa fare pure una figura di merda si è adattato no che cazzo si è adattato allo stile giapponese che c'avevo stavo a Montesilvano non stavo a Teramo Montesilvano ma a Pescara stavo a Pescara non a Teramo perché giustamente perché giustamente devi fare in modo che il maestro diventi umile davanti all'umiltà ma ovviamente ragazzi io dico la sera poi ma tralasciando queste vostre quisquiglie ma stai sentendo le cazzate che sta dicendo Delly ma non c'è bisogno tanto le so comunque ne sta sparando una dietro un'altra sommo puoi confermare che sospetto di Shanks beh vabbè ma anche se sospetto di Shanks Delly non è quello il punto delle teorie dei bambini che scrivono su Cora in 2001 stiamo parlando di un'altra cosa Delly stiamo parlando che il tizio che era di gomma dice Claudio Foxy che è un tipo che praticamente parla da anni di One Piece e nessuno lo caga che almeno qua si parla di One Piece e la gente ti caga ma te ti ha mai cagato in vita tua ma scusa ma non deve essere uno spazio per fare dissing agli altri che parlano di One Piece lo vedi perché non vogliamo parlarne scusate lo vedi perché non vogliamo parlarne perché poi succede questo ma poi si chiama Claudio Foxy è la peggior saga di One Piece mai realizzata di cosa stiamo parlando vabbè comunque a parte questo Delly posso dire no 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 ora fammi parlare a me hai parlato solo te allora il problema grosso di questa saga ma anche di questo di questo retcon è che noi seguivamo un personaggio che era ben definito fin dall'inizio cioè un personaggio stupido un personaggio leggero un personaggio che grazie alla sua semplicità è un potere scemo in un mondo di mostri riusciva ad arrivare dove nessuno arrivava a un certo punto Oda ha deciso deliberatamente collegando tutti i fili che ha sparso a caso per poi riallacciarli con sapienza come fa lui e questo bisogna riconoscerlo il suo talento che ha solo lui probabilmente ha deciso di farlo diventare una divinità questa roba qui secondo me uccide un po' lo spirito di quel personaggio scapestrato e semplice che seguivamo fin dal numero uno ma se sappiamo da una vita che l'erede di roger no lui sta ripercorrendo le gesta di roger ma l'erede di roger lo dici te tutti quanti dicono si assomiglia al capitano le sue stesse parole dall'edizione del manga certo ma perché lui come roger se ne sbatteva il cazzo e con leggerezza arrivava dove voleva arrivare però questo qui da elevarlo a divinità ma anche se fosse una cosa essere l'erede di un grande pirata un'altra è aver mangiato un frutto che attenzione non è un panatiscia scemo bevuto bevuto il frutto vabbè secondo me ma non cambia niente che lo spremi ci fai la premuta o te la mangi comunque l'hai ingoiata una cosa è che c'è un potere del cazzo e un'altra è che diventa un dio con il morsicato caverna puoi condividere l'immagine che ho messo qui beve il frutto dai raga ma se c'è vaffanculo vai a fare in culo vai a fare in culo è una cazzata ma cosa beve il frutto ma non è vero attento ma poi c'ha ursini mi pare non ho capito ma scusate ma Delly ha appena detto che Shanks ha dato il potere del frutto va a cagare ma che dici ma non è vero ma pure base io rimuovo questa roba ma c'è Rufy con accanto il frutto morsicato fa la mettere perché non farete quello infatti lui quando lo mangia dice che non era buono vuol dire che il primo mors era stato già fatto era Shanks che l'aveva spremuto e gliel'ha dato vabbè ormai siamo a livelli di delirio livelli di delirio totale ci vuole la neuro un TSO ci vuole l'altro problema poi il resto non lo stiamo criticando non ti preoccupare non puoi ancora cancellare il tuo canale da YouTube stiamo perché è basato solo su quello e su di Singa Yotobi che ora sta facendo dei video da c'è un bel anni vabbè sì sì ormai potete essere amici quello che dico io è un'altra cosa è che ma Yotobi legge One Piece per capire così io mi chiamo non credo non credo peccato Yotobi legge no Yotobi legge sì credo sappia leggere sì vabbè comunque ora noi stendiamo il discorso e il fatto è che la Maria cioè diciamo il dialogo dei cinque assi di saggezza è molto forzato poi cercherà di giustificarlo rattoppare e tutto però ripeto il fatto che non si siano mai mossi ma che abbiano aspettato l'ultimissima occasione prima di uccidere Rufi occuparsi di Rufi mi sembra un po' hanno saputo 15 giorni fa di questa cosa 15 giorni prima degli eventi di oggi ma cosa che il frutto è il gongom sempre ammesso che questo sia un flashback o che sia post nel caso in cui fosse post dicono che cercano di ottenere il gongom da 800 anni ma gli sfugge sempre appena vedi che uno saluta il governo mondiale cerca di ottenere il gongom da 800 anni ma loro hanno scoperto che quello è il frutto leggendario solo 15 giorni prima perché gliel'ha andata a dire Shanks sicuramente o Shanks o Im questo l'ho pensato pure io però vabbè bisognerebbe vedere effettivamente loro che cosa hanno le fette di prosciutto sugli occhi che sono 70 volumi che non se ne accorgono che guarda caso quello che ha il potere di gomma quelli si allunga si gonfi non l'hanno mai visto che il gongom fosse quel frutto gli è stato rivelato l'unico modo l'aveva detto anche un mio utente in chat ieri mentre parlavo l'unico modo è quello però anche lì capisci che è super forzato è molto forzato il governo mondiale che sa tutto sa tutto vede tutto ma poi non hanno fatto rapporto i tre ammiragli scusami non gli hanno detto questo tizio ciasi di poteri cioè questa informazione non sta da nessuna parte ci sono le taglie qua se ne accorge Mioc Mioc si accorge che lui ha il potere di influenzare la gente intorno a lui non se ne accorgono i massimi le massime potenze della marina ho uscito questa disaggezza il punto della questione effettivamente è che meglio se parla sommo al netto di tutto quello che dice Delly è forse la soluzione obiettivamente più logica nel senso che loro conoscevano la storia ma non sapevano che il frutto che aveva mangiato Ruffy era proprio quello il punto è che al netto di tutto anche se magari puoi fare la retcon in questo modo è comunque davvero una shonen ingiampata molto stiracchiata molto tirata per davvero ragazzi è veramente con me e loro vedevano al massimo che fosse il paramiscia della gomma non esatto può trovare quella funzione diciamo che è troppo poco burro stiracchiato su una fetta di pane troppo larga non va bene nel dubbio lo ammazzo nel dubbio lo faccio fuori non si sa mai anche se il paramiscia è la gomma ed è per me ed è quello che dicevo prima voglio un attimo capire prima di tutto davvero cosa dicono dal giapponese perché poi il punto è quello ed effettivamente voglio un attimo stare alla finestra per capire se ci sarà una spiegazione in più il punto è che quello che secondo me dice Delli è effettivamente per come sono andate le cose non la faccenda di Shanks secondo me Shanks non gli ha detto un cazzo di Rufi non gli ha detto assolutamente nulla ha parlato di tutt'altro come fa al suo solito però potrebbe anche essere che chiaramente i cinque asti di saggezza hanno fatto due più due ah oddio quindi quello stronzo con la gomma è effettivamente quello che c'ha il potere però chiaramente se stai cercando il potere che è di gomma e casualmente ci sta questo che con la gomma fa un casino non ti viene nemmeno da domandarti aspetta vado a controllare far ridere perché io me le ricordo le scene le ho anche citate quando ci sono i cinque asti di saggezza con il wanted eh caro Rufi dal cappello di paglia è ora che te ne torni all'ovile adesso ecco ma mandateli 70 ammiragli a questo mettete in gatta buia fate qualcosa e invece tutto questo tutto questo in realtà no tutto questo in realtà basta una spiegazione di Vegapunk perché lui praticamente arriverà lui è Lunariano in questo momento cioè evidentemente Lunariano in questo momento della storia Vegapunk evidentemente Lunariano ma Vegapunk Lunariano Rufi no 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 Rufi ah Rufi Nika probabilmente era Lunariano c'ha il fuoco sopra la testa tipo quello vabbè se ne può inventare 100.000 non è un problema noi diciamo stiamo parlando di quello che è successo per ora per ora la cosa che la Marina abbia fatto sempre orecchie da mercante di fronte a Rufi è un po' strano poi magari ci mette Im madre di Rufi che quindi proteggeva nell'ombra siamo nell'epoca della fast news dove commentiamo le cose quando accadono e non aspettiamo mai ma come fai te come fai te sei esattamente tu non proiettare i tuoi problemi sugli altri ma che bufanata assurdo sei qua a commentare sei qua a commentare non a giudicare però posso dire una cosa nonostante tutto ma quanto è bello posso dire una cosa ma quanto è bello rivedere Domenico Dario e Delli che parlano di One Piece basta non dico nient'altro per me è bello sono come se stanno facendo le seghe su sta cosa lui rivoliva il suo campo giochi è rimasto da solo a rimestorare la sabbia per tutti questi non è cambiato nulla non è cambiato nulla io l'ho detto l'altra sera a Condello ho detto ma meno male che comunque ci sono gli stronzi come Domenico come Gabriele come i ragazzi di One Piece che comunque uno davvero mi lasciano da solo e che ogni tanto facciamo le cose insieme perché altrimenti mi sarei rotti i coglioni ma sul serio quindi io sono contento se ci sono altre persone che poi si mettono e parlano di One Piece soprattutto poi se sono persone che conosco da anni e quindi quando vi vedo nonostante siate degli stronzi sono contento perché abbiamo tutte le voci no? c'è quello One Piece è evidente che unisca tutti anche chi non è del mestiere tipo Dario e Caverna oggi a parlare di One Piece ma figurati belli che Domenico non aveva neanche più palli di idea di quando Shanks fosse andato a parla con i cinque altri stiti di saggezza ma io non capisco ma è un flashback ma che cazzo è però siamo contenti io a parte figli cringe di Big Bang Mamma so tutto vi ricordo tutto per il resto sono a posto l'ho riletto perché mi hanno detto tutti guarda che c'è un flashback di Roger bellissimo ho ripreso One Piece e me lo sono riletto quello sì è fondamentale sì è bello è molto bello è molto bello io due volumi di One non li avrei tolti dal cazzo però sì l'inizio è una coltellata aggiungo un aspetto volume 91 se lo bruci e lo skip è uguale è proprio una rottura di coglioni io l'ho riletto tutto insieme in due settimane da quando si ritrovano all'arcipera con Sabaudi l'ho riletto tutto fino al capitolo ne parlavamo pure in privato me lo diceste sì 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 che poi ragazzi aggiungo una cosa che mo' spiega la ricerca di Kaido per i Zozo che lui ne ha molto maggiore da uno lo dicevo prima secondo me collega in qualche maniera lo collega perché ha senso smiley i sorrisi quelli che aspettano bah secondo me unisce tutto secondo me non è come dice Sommo che aggiunge più roba secondo me aggiunge più roba per collegare tutto questo è il quello sì ma anche perché poi effettivamente si è visto come le persone alle volte hanno paura che Oda non riesca a spiegare le cose alla fine se pensi anche al capitolo precedente lui con l'ultima vignetta ti ha fuso tre cose tre dei grandi misteri di One Piece e in questo capitolo sì c'è chiaramente lo spiegone dei cinque astri di saggezza ma tutto sommato lui è riuscito a spiegarti una parte importante della macro mitologia di One Piece una cosa lui gli basterebbe un volume di spiegone e a posto che lui lo faccia che lui lo faccia è un conto che lo faccia bene è un altro però prima che parla Dario prima che parla Dario i Lunariani probabilmente erano di gomma perché avete visto che King si tira indietro il becco no Delly no Delly questa no ti prego porca puttana ma che cazzo gli allungava anche la fava gli allungava anche la fava le palle si allungano fino a terra ma sì ma allora i triceratopi i triceratopi hanno la crista che gira che i diplodocchi si possono vabbè nel mondo di One Piece tutto è possibile ci sono molti del mare dunque Delly una domanda una domanda voglio sapere cosa ne pensi te le ombre che vediamo alla fine di Thriller Bark quelle ombre giganti sono una cosa creepica inserito Oda come elemento grafico oppure c'era già lì Zunisha che camminava verso nuove avventure non erano quelle dell'isola nel cielo no quelle sono le proiezioni no ti parlo Thriller Bark ci sono tre o sembra tre ombre giganti con l'occhietti luminescenti nella nebbia quando loro lasciano Thriller Bark secondo te non se ne ricorda va bene buonanotte ragazzi non lo ricordo non lo ricordo un sfogliatore attenzione ha sfogliato la saga di Thriller Bark Delly ha sfogliato facciamo una cosa bisogna rileggere bisogna studiare da capo invitati invitati alla prossima One Piece Night Live quindi Dario scammerai un tuo pub ce ne frega un cazzo e venite a parlare e allora è finita da posso ciao grazie leggete il manga leggete il manga ciao 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 grazie ciao